Una novità anche per i più piccoli nel gruppo Rossigol, un nuovo sci per i nostri piccoli sciatori con una nuova struttura che aiuta la sciata e l'apprendimento dello sci unita e questa collaborazione con l'animato Castellissimo Me con una customizzazione bastone, sci, casco e maschera con i famosissimi Minions.